Cosa prendi se io prendo una cosa diversa? Veloce, 9 secondi. Cosa prendi? Non so ne che minchia sto facendo, prendo Tormento. Non so perché ma prendo Tormento, oh mio Dio. Ok, siamo fottuti. Guarda, guarda i vetri. Ah, qua puoi aprire il perc... oh mio Dio, oh mio Dio, lag. Lag, lag, lag. Oddio, lag, lag. Ok, è passato, sempre. Si sta generando proceduralmente. Sì, esattamente, le masse sono sempre proceduralmente generate. Si è appena generata. Ho i colpi infiniti. Oh, oh, mi si aperte il vetro! Ma che se... così però mi fa piare l'infarto. Dove sei cazzo? Che cazzo è? Ok, update. Non so neanche che cosa sto facendo ma moriremo. Già. Ok. Hunter ha entrato l'arena. Eh? Traduci? Traduci? You are revealed. You are revealed. Ok, il Hunter sa dove siamo adesso. Noi stiamo cercando di catturare. Ma va. Io sto dietro la colonna. Ha arrivato! Scappa! Scappa, scappa Run it down. Bloodpost in feed. Mi ha tipo massacrato. Mi ha tipo massacrato. Nascondo la ciascuglio. Ma che non lo salva? Run it down. Bloodpost almost pooped. Aiutalo! Run it down. Runner may now be sent to bloodpost. Mi fa tempo a basso laudo. Oh! 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 Nessuno mi salva, vero? Run it down to bloodpost. Kale, sei vivo? Sì! Salvami. Run it down. La ringrazio. You are revealed. E quindi? Dov'è finito, Lander? Sta già tornando, mi sa. Già! Oddio mio! Che cos'è quella con la Joe giallo che sta? Eccolo, eccolo, ho visto. Run it revived. Execution available. Qualcuno vada su... Aiuto! Cazzo! Cazzo ha le torrette, il suo stronzo! No, no, più colpi dell'arco, cazzo! Meta sta per madonna mia, quello che sta facendo il giro! Quando non sai giocare, è un gioco, oddio! Ciao Meta, sei morto! Ma perché me? Ma c'era quella camera? Perché ti è finita la vita! Sto osservando... Chi? Queba? Questo fa le scivolate, si nasconde, muore! Sto pianto per quello, non ci credo! Guardalo, guardalo, guardalo! Sto cercando le ammo, non le trovo! Ma attacchia si respawna? No! Ho recuperato le ammo! Vediamo Kale come muore, in diretta! Comunque quello, c'è uno si chiama Kikweba che lo riesce a pigliare in giro! Tutto un sa di scendi, nascondersi nei cespugli! Devi capire come ti devi acquattare! Siamo fottuti! Siamo fottuti! Siamo fottuti! Siamo fottuti! Iniziale! Cosa sarà fottuti! Non so particolarmente! Dio mio! Prenditori sono disponibili! Dio mio! Qualcuno è morto! Si abbiamo perso Oddio sterminati Almeno sono arrivato vivo Fino alla fine E' già un qualcosa E' uno contro cinque E ci ha ammazzati tre Oddio Mamma mia Sterminati brutalmente No no è giocabile Solo che non sappiamo come si gioca Ragazzi